Io ho sempre sostenuto in passato, negli anni passati, che l'immigrazione andava affrontata in tutta Italia. Non era possibile concentrare in soli pochissimi posti i luoghi in cui i richiedenti asilo venivano valutati e poi esaminati con ritardi enormi che costringono a volte a stare due o tre anni in attesa di sapere se una persona che richiedeva asilo aveva diritto o meno. Quindi avere più centri significa velocizzare le procedure, velocizzare i rimpatri, permettere allo Stato di gestire meglio e in maniera più efficiente il tema dell'immigrazione. Dopodiché siamo tutti fiduciosi del fatto che lavoriamo perché a livello internazionale ci sia un impegno serio da parte di tutte le istituzioni europee perché vengano difese insieme i confini dell'Europa che sono quelli italiani verso il Nord Africa che pensare che si possa in maniera continuativa e indefinita continuare ad accogliere migliaia di persone al giorno in quelle condizioni lasciando agli scafisti e ai trafficanti di carne umana il monopolio di questa gestione dell'immigrazione è una cosa insostenibile. La crisi che sta vivendo l'Africa in questi ultimi mesi ha aggravato pesantemente la situazione e forse, io spero, sta aprendo gli occhi all'Europa. La von der Leyen portata per mano da Giorgia Meloni è venuta più volte sia in Tunisia che è venuta anche a Lampedusa a vedere con i propri occhi. Io spero che in Europa si capisca questo perché poi le strumentalizzazioni di chi a sinistra in Italia rivendica confini aperti e poi in Francia e in Germania Macron e Scholz chiudono le frontiere a 20 miglia o respingono e non accolgono i migranti che avevano promesso di assumere firmando patti e convenzioni e accordi con l'Italia dimostrano la strumentalità, la schizofrenia e anche la malafede di certe posizioni. Una cosa è certa, non c'è un numero indefinito di persone che si possano accogliere. Arriva un momento in cui il blocco alle frontiere, comprese quelle navali, deve essere applicato e si deve adottare un meccanismo che consenta a uno Stato di poter difendere i propri confini e il proprio diritto alla sicurezza. In Abruzzo è già stato individuato il luogo? No, queste sono decisioni che assume un commissario nazionale, è stato nominato dal governo, sono anche informazioni e scelte molto riservate, al momento non c'è stata nessuna interlocuzione formale in questo senso, quando ci sarà naturalmente daremo anche il nostro parere, il nostro contributo a individuare una località che non comporti problemi, disagi o impatti negativi sul territorio.